Un progetto ambizioso che vedrà presto la luce. È stata presentata a Verona l'edizione zero della Trans Alprando, evento organizzato dalla SD Sport Verona, presieduta da Simonetta Bettio, che prenderà il via mercoledì 1 giugno da Piazza Bra per concludersi il 6 a Villa Guerrina, Montorio. Si tratta di una manifestazione ciclistica sulle lunghe distanze, prevalentemente succiclabili, e dunque nel massimo della sicurezza per i partecipanti. Il circuito si snoderà per 1200 km e toccherà Lago di Garda, Trento, Bolzano, fino all'Austria e alla Slovenia. La Trans Alprando è l'unico evento di questo tipo a svolgersi nel territorio del nord-est dell'Italia. Si tratta, come detto, della primissima edizione e l'intendimento è quello di consolidare l'evento e apportare migliorie anno dopo anno, parametrandosi a quelle che sono già le manifestazioni esistenti nel resto dell'Europa. Ma gli organizzatori hanno previsto un ulteriore appuntamento. Oltre al circuito della 1200 km si svolgerà una classica randonnée, si chiama proprio in questo modo, di 600 km, che partirà da Villa Guerrina il 4 giugno e si snoderà solo su territorio italiano. Si tratta quindi di una grande festa per il ciclismo, dove vincerà lo spirito di aggregazione, il divertimento e lo stare insieme per erogative tipiche delle randonnée.